Ah, quindi cheat code è una cosa che si attiva Ho capito Che andrà recuperato Ma volevo sceglierla io, scusami Il getto è infuocato Ah, è tipo cosa demone, non c'è un demone? Sì Quindi io arrivo qua Quattro E poi stacca tang, stacca tang, stacca tang Stacca tang, stacca tang Ho capito, ok Interessante Ma io voglio slidare Fammi andare di là Eh Getto un foccato Magnete e risorse Salute a persone Anche la tua salute al massimo Tutti i riferimenti del gioco Non riescono a un pugno di sangue Allora, ti direi Io mi incrozzerei un pochino Ah, proprio zero in realtà sono tutto zero Quindi vediamo il momento Quattro Sogretto a provare Mh potrei prendermi questo andiamo facciamoci questa seconda missione e poi è scivolo ragazzi rocket rig ma come ci dovrei arrivare di là ok ci arrivo scusa io perdo scudo così in maledizione a me essenziale scudo iscriviti al canale Oh cazzo Così no però Così no Puoi avvertirmi però Che lo fai arrivare Ma ci muori un attimo Vieni qua vieni qua Oh cazzo critico Oh muore 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 Ok Pazzamaniac Doggo Entrare a prendere questa cosa Quanto di Una one up Aaaaaaah Quella franta quella one up Spangetan 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 Aspetta Lo voglio fare una one up No Ci sarà un modo Sennò non l'avrebbero messo Va Facciamo questa Allora 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Facciamo che acquistiamo questo. Dato che possiamo, mettiamo questo. Post. Lone? O qualcosa? Non è se è giusto, guarda. C'è giusto. E' giusto. Non ho letto come si faceva. Ok, shift. Non ho letto. 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 non ho letto.